33 su 69, Arianna e Angela che interpretano Emma Swan e Regina Mills da Home Spawn Time, c'è una volta! Non fare più una cosa del genere, mi parli di nuovo? Non lo so, mi è forse permesso. Tu hai voluto dar nero. Sì, ma non per usarlo contro di me. Io ti ho salvato la vita fingendo di essere mia. Ah, sta zitta e ascolta. Oh, potrei prenderci gusto. Senti, se tu ti fossi fatto avanti, Artur ti avrebbe chiesto di liberare Merlino. Avresti voluto usare la magia. Oscuro, ovviamente. Ti ricordi cos'è successo l'ultima volta? Ho perso il controllo. E hai voluto consegnarmi questo pugnale perché non succedesse più? Nessuno conosce il fascino dell'oscurità, meglio della sottoscritta. Io ti conosco, Emma. Ce n'è voluto un'ora e ti conosco veramente. E non sei deboli come lo ero io e se ti stai aggrappando all'oscurità hai delle buone ragioni. E vanno oltre le tentazioni, quindi di che si tratta? Non lo so. C'è una vera differenza tra non sapere qualcosa e non volerla ammettere. Hai alzato dei muri, Emma. È il momento di abbatterli. Che stai facendo? Mi aiuto a buttare giù i muri. Come tua amica ti ordino, signora oscura, di dirmi perché hai paura di rinunciare all'oscurità. Se la lasso andare non potrò proteggere la mia famiglia. È un altro muro, Emma. Adesso la verità è questa, Regina. Ti prego. No, non lo è. Devi essere abbastanza corrigiosa per abbattere le difese di aggrappi di nascotti. Dimmi di che cosa hai paura. Io ti amo. Senza lingua non vale.